15 mesi a partire da oggi per il progetto definitivo, poi l'impegno più gravoso, reperire i fondi necessari, costi saliti a oltre 300 milioni per un'opera fondamentale per lo sviluppo del territorio, attesa da tempo dai residenti della sponda occidentale del lago, la variante alla Tremezzina, 11 km da Colonna a Griante, stamane un altro passo in avanti, la firma della Convenzione per la Progettazione Definitiva, sottoscritta anche dal Ministero delle Infrastrutture, appalto previsto fra due anni. Perché adesso ci sono tutte le componenti, quelle del territorio, la provincia, la regione, la Camera di Commercio e quant'altro, e c'è l'ANAS ovviamente, e c'è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che dovrà esercitare un ruolo forte per il reperimento anche delle risorse necessarie per la conclusione di questo pezzo importante dell'infrastruttura. Quindi una firma che è anche una promessa da parte vostra? È un impegno che non rimanga soltanto una firma così scritta nelle nuvole. Adesso la Convenzione prevede che l'amministrazione provinciale a cui è affidata la progettazione come le precedenti due fasi abbia a disposizione 15 mesi come massimo termine. Noi ci auguriamo che ne occorrano un po' meno, ma insomma il lavoro è abbastanza complesso. I problemi economici ci sono, ma noi confidiamo che con un progetto ben fatto si possa prendere il treno quando questo passerà. Il progetto definitivo, costo 2 milioni, ripartiti fra regioni, provincia e camera di commercio, sarà affidato all'amministrazione provinciale un tracciato di 11 chilometri per lo più in galleria da realizzare in un unico lotto. Fra due anni questa è la previsione, la gara d'appalto. Cioè è un'opera impegnativa da un punto di vista finanziario. 330 milioni? 330 milioni è l'importo del progetto preliminare che ANAS ha approvato pochi mesi fa e quindi insieme alla partita tecnica della realizzazione del progetto c'è quella finanziaria di trovare le risorse. Dall'amministratore dell'ANAS anche l'assicurazione che i lavori della Galleria di Cernobbio stanno procedendo secondo programma che vede l'ultima azione a giugno del prossimo anno. Anzi potrebbero anche terminare in anticipo. Cercheremo anche di utilizzare qualche possibilità di lavorare anche nel diurno o di giorno con magari dei sensi unici alternati lì dove sarà possibile ma questo soltanto per eventualmente anticipare un po' i tempi previsti. Grazie a tutti.